Ueeh ragazzi come va? Pensavate fossi youtube fa cagare invece no. Allo buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di youtube in 60 secondi. E' iniziata la seconda stagione del Late Show di Karim Musa. Da ora ogni video e format del canale rientrerà all'interno dello show. Grandi collaborazioni tra Dario Moch e Federico Frusciante per la monografia dedicata a Mamoru Oshii. La prima parte è uscita ieri. Dal 13 settembre Hangout On Air va in pensione. Tutte le live saranno spostate su youtube live. Ritorno a Fast Forward con Giorgio Taverniti e complimenti per il nome che mi incasina tantissimo da dire. Le notizie sul web marketing una settimana prima. Salva tutti maledetti. Non è vero sono sempre io. Vic Leib inaugura una nuova serie di video in cui parla di arte in maniera fluida e comprensibile anche a chi di arte non ne sa niente. E il vincitore del sondagione settimanale non c'è perché abbiamo avuto dei problemi di montaggio per cui questa settimana non c'è stato ma non disperate perché tornerà dalla prossima settimana. Quindi iscrivetevi tutti al gruppo della Gazzetta di Youtube. Dal vostro pick up all'indrome affezionatissimo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video sempre qui in mia compagnia. Ciao! Ciao!